ciao ragazzi sono qua per invitarvi domani domenica 28 marzo 2021 sul mio canale delle live piers live mi raccomando andate a iscrivervi vi metto il link qui sotto in descrizione alle ore 15 30 per una live davvero bellissima giocheremo insieme giocheremo a tavo il gioco delle parole editate e avrò come ospite su colors vi lascio il link del suo canale qui sotto descrizione andate iscrivi perché è veramente un bravo ragazzo quindi passeremo un'oretta insieme giocando a tavo mi farebbe piacere che ci siate tutti i ragazzi che dire vi aspetto domani ore 15 30 superiore live ciao